La crioterapia, chiamata anche terapia del freddo, viene utilizzata per alleviare il dolore post-operatorio e il gonfiore, accelerando il processo di guarigione. È un sistema costituito da un'unità di controllo a cui viene collegata una fascia termica che contemporaneamente rifrigera e comprime la sede dell'intervento chirurgico. Il dispositivo è gestito dagli infermieri e dagli operatori sociosanitari. Verranno effettuati cicli di 30 minuti di crioterapia alternati a 30 minuti di riposo nel pomeriggio del giorno dell'intervento e nelle due giornate successive.